Calmi ragazzi, calmi! E allora sono veramente felice perché qui oggi c'è la Sicilia che conta, i giovani siciliani, i nostri giovani, il cuore pulsante della nostra società. Mi avevano detto non fare questo gruppo perché è pericoloso, in piazza non si può fare, è molto rischioso. Io ho voluto rischiare, l'amministrazione ha rischiato e l'abbiamo fatto per voi, per tutti voi. Siete giovani, giovani! Grazie veramente di cuore. Adesso loro rientrano un minuto con me per ringraziarvi veramente di cuore. Voglio ricordarvi solo per un minuto che siamo qui perché celebriamo un evento eccezionale, importante. Tutti voi, cari giovani, dovete sapere che abbiamo finalmente acquistato e ridato alla nostra comunità la Torre Castello di Roccella. E' per questo che festeggiamo tutti insieme questo avvenimento eccezionale e che resterà nella storia del nostro paese. Ora consegneremo le targhe della rassegna Cuore Antico ai Philly. Consegniamo la targa Cuore Antico in un giorno, mille anni di storia. Grazie ai Philly. E' veramente un piacere avere qui questi ragazzi che rappresentano per noi un momento molto esaltante. Grazie ancora e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.